Torna sui gomiti, te lo dice Cleglia. Buonanotte. Tiang, che c'è? Mi dici cosa ho che non va? Niente. Allora perché con la nonna fai sempre il cascamorto e non ti metti con me? Perché non c'è lei. Va bene, allora io torno con Ciro Capone, però poi non venirmi a cercare. Sei sicura che non ti serve più niente? No, no, niente, ho i giornali, le riviste, film, è una serotina perfetta anzi. Poi sono anche stanca, va a finire anche che vada a letto presto, vedrai. Bene. Ah, se ti serve il tavolo puoi spostare il mio puzzle, eh? No, per carità, a me proprio gli uccelli mi fanno impressione anche di quando sono di cartone. Non lo toccherei mai. Va bene, allora io vado. Vai. Vai. Senti, ma ti dispiace che ti lascio qui da sola? Ma non sono sola, guarda, non sono sola, sono... Perché io resto qua se vuoi. Vai. Allora vado io. Vai. Ecco, più che altro magari... Come? Dimmi. No, volevo dire, vai al sodo, dico. Ecco, a questo proposito, ma io non sono sicuro. Sì, insomma, che cosa... No, 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 tu invece... Sì, uomo, lanciati. Sì, sincero. Lascia stare, vai, vai. Vai. E tu, Raul? Che progetti hai per il futuro? Ecco io. Attento, eh. Attento a quello che rispondi, perché lui è il padre, quindi vuole sapere se la figlia è in buone mani. Eh, certo. Era per dire, era... Mi piace lo sport, sto offrendo l'Isef e insegno kickboxing. Bravo. Bravo. Ragazzo sano, eh. Amore, guarda su, guarda su. Guarda l'uccellino, guarda. La cassa da parmigiana. No, anzi, è buonissima, davvero, davvero buona. Grazie, Viola. Ah, senti, Viola, ma tu sai cucinare? Rammendare, stirare? No, attenta, perché lei è la madre e vuole sapere se il figlio è in buone mani. Era per dire. Eh, sì, per dire, state facendo una figura penosa. Per dire, ah. Ciao. Buonasera. Dormono come angioletti. Uno schizzetto di ansiolitico nei biberon e pum, passa la paura. Anziolitico? Ma, gliel'avete detto allo strizzacervelli che oltre al resto vi manca anche il senso di umorismo? Ah, temo che per quello ce ne vorrà di tempo. Sarà molto lunga e faticosa. Ah, sì. Molto. Molto. E' un baile sinigual, cha-cha. Un muy sencillo y sensual, cha-cha. Un very open way baila, cha-cha. Ah, sì, molto. Si vede, è bravo questo psichiatra. Pare che ci vorranno almeno due sedute. Tre. Sì, tre, tre sedute a settimana. E tiene swing, e baila swing, e goza swing, con mucho swing, swing, swing. Credi che potremmo contare su di te? Ma certamente. Se vi separaste, mi rompereste molto di più l'anima. Per carità. Eh? Vabbè, allora ciao. Buonanotte, picchiatelli. Buonanotte. Grazie. Io spero che gliel'abbia dato veramente l'anzolitico, perché vorrei rimanere un'oretta solo senza essere disturbato con te. Allora la terapia funziona. Hai visto? No. Vieni qua. Che palle, strapalle. Almeno ti muovessi un po', muoviti. Daresti anche il motivo. Dimmi, sto sveglia. Perché almeno, se ti muovessi un po', se tu ti muovessi un pochettino, riusciremmo a fare delle cose insieme. Vedi, per esempio, questo è uno dei passatempi più idioti che esistono sulla faccia della terra. Vieni, ti scervelli, ti spacchi la testa, che cosa c'hai? Ecco. Un pennuto rattoppato che se sta zarda ad attaccarla al muro io glielo brucio. Glielo brucio. Se sta zarda. Qual esempio? Questo cos'è? Si sta bene, eh? Sì. Beni, Beni. Sei sicura di non volerne uno? No, perché c'è la siringoma. Un gabbiano. Il nome scientifico è Larini. Deriva dal genere principale della famiglia Larus. Pensi che loro quando vanno in... Migra, no? È una formazione professionale. Scusami, ti stai annoiando, vero? No. Sì, sì, invece. Te ommo annoi proprio per nulla. Un'altra cosa è che io... Non sono tanta esperta di gabbiani. Perché mentre stavo... Stavo studiando il librone, no? L'enciclopedia. E me è cascata. La cintura. Biondo cenere proprio... Sulla L. Di lapidi. No, no. La... La... L'aridi. Con la R. L'aridi. Sì, ma... Con le consonanti, con tutte le vocali che tu vuoi. Però ti prego, continuo a parlarmi degli uccelli. Perché mi garpa tanto. A me piacciono tanto gli uccelli, sai? Prima di conoscerti pensavo che fossero soltanto degli orribili pennuti, invece... Che c'è? No, dico, sta bene? Bene, bene, tutto bene, tutto bene, benissimo, sì, sì. Allora... Mi stavi parlando dell'Aidi? L'aridi, l'aridi con la R. Come tu... Che ne sono una varietà infinita, tipo il... Il giampezzale, il dorsio ardesi e il codafasciato. Che c'è, non ti garbo? Vedo delle cose... Vedo delle cose strane. Ecco, adesso che ti guardo, io non... Non vedo te... Non riesco a non pensare a... La che te tu penso un po' troppo, un codesto a foccia. Sì. Devi soltanto chiudere gli occhi. Chiusi. Perché? A tutto il resto... Si pensa bea. Va meglio? Eh? No, dico, va meglio? Non lo so, è... Forse l'esperimento ha bisogno di una conferma. Posso essere la tua avia. Vedi che non c'entra? No, già... No, già che nervi! Proprio una cosa che non posso neanche toccare. Io non le posso toccare queste cose, a me mi nervosisce. Valeria, Valeria, ma perché non mi fai sapere qualcosa? Paolo? Sì? Con chi stai parlando? No, con nessuno. Che c'è? Apri. Aspetti di lasciarmi sempre il suonato a fare la cosa. Scusa. È la terza volta che te ne parlo. No, è che io mi ricarico, capito? Poi torno di là a dire la prossima vogliata. Dio, che stress. Sì. E dai retta a una che ha qualche anno più di te, Emanuele? È brava, è tanto brava, però... Zio, per favore. No, ma io lo so. Ema... Ema è... No, Ema è quella che è sempre più brava di Sandrina. Ah sì? Noi l'abbiamo conosciuto! Era un fesso! Senti, ma secondo te noi stiamo facendo proprio la figura dei... dei genitori? Io, io... Cioè, nel senso di quei genitori, ecco. No, ma noi siamo genitori. Non so se quei, però... E tu? Non ti fa scappare, stuaglione! Guarda quanto è bello! Quanto è bello! Non te la fa scappare, eh? Certo, lui è carino. È davvero carino. Bellissimo, direi non... Non si può guardare, per quanto è bello. Veramente. Sì. Sì, è carino, carino. Lei piuttosto, secondo me, è proprio bella, proprio... Sì, è carina, è carina. È un...